Il tempo era poco, ma mi sono comunque subito fiondato a scaricare il DLC. Tecnicamente si tratta del cacciatore di teste Headhunter 5, e sborserete i soliti 2.99€. E se avevate scaricato ed acquistato anche il precedente DLC, lo scaricamento è fasullo, nel senso che avete già tutto sull'hard disk, deve essere solo attivato. Per l'occasione mi sono anche rifatto la build, che prima era un po' sbilanciata sulla velocità, adesso invece mi serve potenza distruttiva. Comunque un punticino in rapidità l'ho lasciato, eh. Rigenerazione energia. E qui il solito ramo che evita le skill che sono quasi inutili a livello definitivo, perché non scalano bene, l'obiettivo è arrivare chiaramente a rovina in fondo. E sul versante armi, beh, devo dire che l'interfacer è stata l'arma con la A maiuscola, fino in fondo. Ma ora si parte. La destinazione è Wambam Island. L'isola di Wambam. Ci materializzeremo in questo casotto dove non c'è nulla di interessante. E fuori? Davvero un paradiso. Voila! Armi, sole e divertimento. E ad attenderci c'è il signor Hammerlock. Come già nel suo DLC, la prima missione è proprio raggiungerlo. Questo inizio di livello mi sembra disegnato proprio bene. E comincio a cogliere i primi particolari. Questo d'occhio... eh sì. Sotto l'occhio vigile della solita luna Hyperion, è solo rimandato l'appuntamento in autunno, ormai lo sappiamo, sulla spiaggetta comincio ad adocchiare i primi nemici. Tratti direttamente dal DLC di Capitan Scarle. Qui sto usando lo Yellow Jacket. Ne approfitto perché questi granchi li stanno tenendo impegnati. Cetaceo, addio. Qui sulla sinistra si nota un palchetto con degli switch per il momento non attivi. Sicuro come loro che ci ritorneremo. Procedo lungo la spiaggetta, seguendo anche la minimappa, scoprendo un po' alla volta questo meraviglioso livello. Basto. Come dico spesso, come piace a me ma come piace a tutti. Quindi, colori sgargianti. Ma dove siamo? Portofino, le cinque terre? Belli. Tutto bello. Stiamo arrivando a quello che si potrebbe tradurre con ritiro per pensionati, non del genere. Cottage per pensionati. Tipo Florida. E noi stiamo cercando un pensionato d'eccellenza. Ma qualcosa ci vuole, o meglio qualcuno, rovinare la festa. Ma ormai siamo vicini al signor Hammerlock. Saliamo le ultime rampe di scale, linee. E il signor Hammerlock è lì in fondo che ci aspetta. Mmm. E quel portone laggiù che fa tanto Jurassic Park. Promette nulla di buono. Cioè, divertimento. Dai, seguiamo il Sir. E andiamo un po' a vedere in che guai ci metterà come al solito. Ehi, dicono che questi sono l'ospiti di un vecchio nemico di Brick. Beh, vai avanti tu. Io sto dietro. Eh, ti pareva. Ok, granchioidi, ma qualcosa di molto grosso ha rapito Hammerlock. Ai nostri amici cacciatori della cripta viene in mente di cercare qualcosa che abbia addosso l'aroma, il profumo, la puzza di Hammerlock. E lì. In quella specie di cabina per cambia. Ok, abbiamo capito che cos'è. Eh, troviamo, perché ovviamente uno lo tiene qui, il whisky. Con addosso tutto, diciamo, l'aroma di Hammerlock. Poi ritorniamo giù un paio di rampe di scale per trovare questo iniettore. E poi torniamo su, nella zona in cui ci sono delle tane Varkid. Guardate che belli. Colori sfavillanti. Ci serve un pod, un guscio, un bozzolo. È quello che dovremmo iniettare. Mi uscirà un Varkid un po' particolare, sbronzo, ovviamente, che dovremo seguire. Però, lungo il percorso, dovremo ammazzare un po' tutto quello che si muove. Ma la dose iniettata al Varkid è un tantino esagerata. E questo è quello che ne consegue. Altro bozzolo, altra iniezione. E rimettiamoci a seguire il Varkid Segugio. Ops, ogni tanto mi dimentico di aver indosso il Rough Rider per andare veloce. E che mi serve, invece, il B. E. Fase tranquilla, non dico noiosa, ma certamente tranquilla. Il Varkid ci riporta quasi all'ingresso, dove c'era il palchetto, ricordate? E se ne va in quello bloc. E noi rimaniamo fregati, perché, come spesso accade, manca l'elettricità. Non c'è problema, basta chiedere gentilmente a Earl. Earl, Earl, il pazzo, siamo finiti. Il pazzo, però, sa fare bene i suoi conti. E ci chiede di sterminare dai pirati. Dopodiché, ci garantirà l'accesso a una turbina, che dovremo accendere, e che provvederà all'alimentazione di tutta l'isola. Ti nascondi, ma è preciso il mio Okai. Tac! Scendo per gli altri. E quanti che ce ne sono! E vai, all'ora di terfesser. Fantastico! Sì, state lì, tutti vicini e concentrati. È esattamente quello che mi serve. Oh! Questo penso che invece... No, ce la faccio, dai. Stai lì, stai fermo, stai fermo, stai fermo. Dove vai, dove vai, dove vai? Meno male. E via. Eh, ce ne sono un bel po', però non è un grosso problema. Sterminati tutti i nemici, si torna da Earl, che ci garantisce l'ingresso alla turbina. Difficilissima impresa attivarla. Usate gli altri tre switch, si torna poi, dopo aver attivato la corrente, ancora al pacchetto, dove c'era l'oblò, in cui si è infilato il Mr. Varchi de Segugio. E attenzione alla meraviglia, che forse, anzi, sicuramente, avevate già visto nel video trailer del DLC. Veramente, ma veramente, una bellezza. E qui nel tunnel incontriamo il nostro primo grancoide gigante, ma altrettanto grande il nostro interfesa. Ovviamente, in fondo al tunnel, un altro ascensore, che questa volta ci riporterà su. Altro ingresso alla King Kong, ma questa volta sarà direttamente il Varchi de Segugio a farci strada. E poi, beh, si trasforma e dovremo farlo fuori. Nuovo area, soliti nemici. e allo Jack. Di dietro, nascosto da qualche parte, ci deve essere un fettente di stregone, perché questi signori continuano a devolvere. Per cui, mi conviene rischiare qualcosetta di più per farmi sotto e andare a cercare quel benedetto stregone. appunto. Eccolo. E non sarà facile. Continua a rigenerare energia. Finite le munizioni. Vediamoci dentro di lanciarazzi. Ma non ne vuole sapere. Ma che resistenza. Eeeh... Dai! Oh, no! Ce sarà qualcuno intorno? Ma neanche un pesciolino! Pfff, che unta. Ho ripreso. E qui, sempre in questo villaggetto, un altro momento piuttosto difficile. Intanto la mia testolina di sirena comincia a fare due ragionamenti. Ci sono dei Varchi, ci sono Selvaggi e Stregoni. e quello che mi viene in mente è Vermivorus Om Om Ok Vedremo. Non c'è qualcosa da far fuori. Meno male. Eccolo non ne vuole sapere. Dai! Niente munizioni! Mannaggia! Eeeh cosa spari? Non ce la faccio. Non ce la faccio. Buoooh! Non meritavo, davvero non meritavo. Ma quanti sì? Via via, dietro il fogliame. Ciao ciao! Giochiamo a nascondino. Una delle sequenze più lunghe e combattute. Ma alla fine raggiungiamo questo terzo uovo di Varchi. Iniettiamo come al solito e ci apprestiamo a seguirlo. Sarà l'ultimo. Ci porterà alla sfida finale dove incontreremo ma lo vedremo nel prossimo video. quello che ha dato il titolo al DLC il figlio di Cromerax il granchio verme. Alla prossima! Sì, sarà buono. Cercherò di farlo entro stasera. Il mio regalo di Pasqua. Sì,